Piombano nuove polemiche sulle IPAB messinesi, stavolta ad accendere i riflettori e la CISL, allarmata dalla situazione della società Asili d'Infanzia, i cui lavoratori lamentano ben 36 mesi di arretrato. Una situazione paradossale e insostenibile, con le famiglie in gravi difficoltà. Primo dei responsabili, secondo il sindacato, è il presidente della regione, Rosario Crocetta, accusò di immobilismo per la tanto proclamata legge regionale riguardante il riordino del settore, ma il dito è puntato anche contro il sindaco di Messina, Corinti, colpevole, sostiene la CISL, di continuare ad amministrare per tappe, in una maniera spesso scoordinata. Ed intanto si cerca di portare avanti iniziative concrete per risolvere la questione, perché le IPAB, sostiene il segretario della funzione pubblica CISL, Calogero Emanuele, sono istituzioni pubbliche che gestiscono servizi socioassistenziali e devono quindi avere un ruolo prioritario. Abbiamo posto il problema a livello regionale, dove c'è in atto un disegno di legge che dovrebbe essere istitato, ma ci comprendiamo quali sono i casini di questo governo regionale che non vuole portare a soluzione nulla, tranne gli spot pubblicitario di Crocetta, noi non demordiamo su queste cose. Abbiamo chiesto anche all'amministrazione gli incontri in tutto il territorio della provincia per quanto riguarda, per ipotizzare percorsi di coinvolgimento delle IPAB sulla 328, sui servizi socioassistenziali, sui distretti sociosanitari, perché riteniamo che insieme, facendo sinergia, risparmieremo risorse e daremo migliori servizi. Nessuna novità a breve termine sugli stipendi? Sugli stipendi no, stiamo incalzando noi i vari consigli di amministrazione per trovare soluzione, anche a costo di rimettere nelle mani del presidente Crocetta, ma anche del sindaco della città per quanto riguarda Messina, le loro demissioni. Non ha senso avere consigli di amministrazione che non amministrano nulla.